Investa i posti di lavoro la prima conseguenza pratica dell'inchiesta della Procura di Prato sulla frode nella pubblica fornitura che ha coinvolto tre cooperative del Consorzio Astir che hanno gestito fino a pochi giorni fa otto centri di accoglienza straordinaria. I richiedenti asilo, una settantina, sono stati trasferiti dalla Prefettura in altre strutture e ai dipendenti delle cooperative non è stato rinnovato il contratto di lavoro perché di fatto il lavoro non c'è più. Ci ha lasciato la mara in bocca che non ci siamo preoccupati dei lavoratori afferenti a queste cooperative del Consorzio Astir che ad oggi non risultano indagati con nessun tipo di prescrizione. Quindi ci sembra una manchevolezza importante perché ci siamo trovati a non vedere rinnovare 12 contratti di lavoro. Già il 2 gennaio abbiamo scritto alla Prefetta perché ci desse risposta rispetto a questa situazione. E mentre si aspetta risposta dalla Prefettura il sindacato prova a metterci una toppa sistemando almeno una parte dei lavoratori in altre cooperative che a Prato gestiscono il sistema dell'accoglienza ma sarà difficile trovare lavoro a tutti. Nel frattempo abbiamo avuto possibilità di contattare le altre cooperative sul territorio e da oggi appunto sono già stati attivati due contratti di lavoro alle persone, a lavoratori e lavoratrici che erano del Consorzio e altri contratti saranno stipulati a breve. Non è facile riempiegare la forza lavoro. Dopo l'arresto dell'ex presidente Loretta Giuntoli il Consorzio Astir ha nominato nuovo consiglio di amministrazione più di 20 le cooperative che formano la cordata e che si occupano di svariati servizi. Le cooperative afferenti stanno lavorando a far sì che tutti i servizi attinenti al Consorzio vengano mantenuti come è logico che sia, però chiaramente un osservatorio particolare.